Benvenuti in questo mio video Non è che mi cringe a fare il mio posto Perché è strano farlo quando so che certa gente lo vedrà E magari non so neanche chi cazzo lo sta vedendo Però vabbè E niente In pratica in questo video andremo assieme Ai cardevali Sono già truccata Ho fatto il make up Devo ancora vestirmi perché Ho un po' di problemi con l'outfit Andiamo a prepararmi, vestirmi Andare da Una migliore amica, Ines Dopo vedrete E dopo Ines Andare Ma beh poi vedrete Sono troppo stressata perché non ho mai fatto un video serio C'è capito no? Che poi dai, voi vi state vedendo questa roba qua? Easy Bitch Bitch Stop Sincero me lo porto Io senza cap Non voglio da nessuna parte Bitch Bitch Let's go Let's go Let's go Pieve Pieve peso Vabbè comunque Ora sta piovendo Ma frega niente Io continuo a registrare Power tank Perché non si sa mai E ora Niente Ora vado a prendere il bus E Vado in Non mi si vede Ok guys Siamo Fuori Siamo 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 Pronte E vediamo un po' Cosa ci riserva questo carnevale Sì ma film Aspetta Non col flash Non col flash che è brutto Non col flash che è brutto Viste a me stazione? Sì Un flash video di salutare Ciao Ciao Poi vi lascio l'instagram di tu Ciao E' una donna delle polizie Inizia bene Presentati Siamociando 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 Quasi sa filmo dopo Ora E' in braccia Mi intermina la situazione? Scusate Scusatemi Non volevo filmarvi senza il vostro consenso Scusatemi Non volevo filmarvi senza il vostro consenso Che situazione? C'è fatto Adesso Scusate 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 E' un vlog qua su YouTube Va bene? Scusate Allora vai Playstatemi Dite come li chiamate E' legandare Dio 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 Vediamo Vediamo Non ci prenderai Poi lo fai in tutti i miei vlog Non è normale Siamo qua con Milena, regà, in quel dipelli, filmo un po' la situa Milena, adesso filmo, aspetta, più che cacare, questa, 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 mamma mia, da io non è consapevole, non è consapevole del fatto che finirà su di tu, no? Allora qua siamo belli, bravo cantiamo, e poi catapulta, ma pastissimo non ho ancora visto il mio vlog, ciao, ma tripburgli 4L, inizio non tempo, ma non ci credo, ma non è vero, no, non posso mettere questa cosa nel video Sì, finirete su YouTube? Sta bene, sì? Sì, sapete che si suona per cesso in fondo a destra? In fondo a destra! Woooo! Zero! I'm not gonna lie! Green! Ma è patrissima! Mi sento mega carina perché si muove! Si muove sempre! Oddio, scusatemi! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! come stai? stai blocando, va su youtube oh yo gang what's up? bitch what the fuck? bitch vai te, vai te stop, stop later i don't know what y'all are doing but your man know if you don't what's happening g Dash out is imaginary, slow out is we staying ma fait du rupo it's so yeah bitch that's deep also meraviglioso, bellissimo Sì, 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 sì che carini non so se piove ma si divertono il tempo abbiamo capito che la ele in tutte le volte che io la mostro sul video tirerà fuori la lingua ma non metterò il suo insta non lo viste no dai vengono di metri eeeh 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 ma io devo andare ma tu hai il pilastro di capelli anche i miei o Non c'è niente da bloccare, la situazione è molto triste. Siamo Giordi. Giordi. Stiamo mangiando. Ho cambiato il telefono perché è il mio spento. Dunque ho visto dal telefono. Non dare, non chiede più così, no? Certo! Devastante. In questa fase ci siamo mostrati. Ho fatto molto più devastante dell'altra volta. Mamma mia! Questo viene per i miei figli. Guardalo. Questo è una casa. E Innes è così che tratta la sua migliore. Quella di Beletto. Innes è così. Innes è così. Innes è così. La serata è già finita. Sono le tre di pomeriggio e noi ci siamo svegliate prima. Pronto. è una recensione di Beli. Aiuto! Ma cricci! Aiuto! Emile! Emile! Ancora metrai! Aiuto! Emile! Recensione seria! Emile! Vai! Recensione seria! Allora 10 su 10! Allora! Insane il vlog è finito. Io ho perso la voce. Sono malata. Ho avuto... Bah! Vabbè! E niente! Datemi dei consigli. Sono tutti... Cioè sono... Sono aperta a qualsiasi cosa. Oh! Ok! E niente! Il vlog finisce qua e... Ciao! Prendetevi su Instagram, iscrivetevi, mettete like! Sa avete già il procedimento, sapete già il processo... Ciao!